Siamo qui all'arrivo di Lavarone con Giada Borgato, vorrei chiederti Giada, secondo te chi vince oggi a Lavarone? Che domandone che mi fai! Oggi sono ancora indecisa se arriverà la fuga o se arriveranno gli uomini di classifica perché sulla carta potrebbe essere anche una tappa da fuga, però le energie insomma iniziano a essere poche i corridori hanno già fatto tante salite, hanno preso tanto caldo e iniziano a essere stanchi Allora facciamo due pronostici, se arriva la fuga potrei anche darti un nome italiano, oggi potrebbe essere Rosa, l'uomo che va a vincere la tappa o anche Molle ma è un uomo che mi piace, se invece arriveranno gli uomini di classifica ti direi Ingrid E invece per quanto riguarda la vittoria del Giro d'Italia, in generale la maglia rosa secondo te è ancora combattuta o si può decidere anche già oggi? È un giro ancora molto bello e molto aperto, sono tutti molto vicini, penso vincerà comunque Carapazza però ci sono ancora tante salite da fare, oggi poi ci sarà la marmolada a fine settimana quindi ne vedremo delle belle